Il ritratto ovale Il castello del quale il mio domestico, per non farmi passare la notte all'aperto nelle mie condizioni penose di ferito, si era deciso a forzare l'ingresso, era uno di quegli edifici frammisti di grandezza e di tetraggine che per secoli e secoli hanno torreggiato sugli appennini, anche nella realtà, oltre che nella fantasia di Mistress Redcliffe. A giudicare dalle apparenze, esso era abbandonato solo da poco e non certo per sempre. Noi ci alloggiammo in una delle camere più piccole e meno santuosamente adobbate, la quale si trovava in una torre fuori mano dall'edificio. La decorazione della camera era ricca, ma logora per vecchiaia. Le pareti erano tappezzate e adorne di numerosi trofei araldici, d'ogni forma, nonché di una straordinaria quantità di vivaci pitture, moderne, in sontuose cornici ad arabesche d'oro. Per queste pitture, che si vedevano appese non solo alle pareti principali, ma anche a tutti i muri d'angolo che la bizzarra architettura del castello aveva adesso inevitabili, per queste pitture ripeto, forse a causa del mio delirio incipiente, provai subito un profondo interesse, tanto che ordinai a Pedro, siccome bruniva, di chiudere le massicce imposte della camera, di accendere le candele d'un gran candelabro che si trovava al capezzale e di spalancare i tendaggi di velluto nero che circondavano il letto. Tutto questo perché, dove non fossi riuscito ad addormentarmi, potessi almeno consolarmi nella contemplazione di quei quadri, alternata alla disamina di un piccolo volume trovato sopra il guanciale, che per l'appunto li valutava ed escriveva. A lungo lessi, e tutto attentamente osservai. Le ore volarono, e furono ore gloriose, e giunse profonda a mezzanotte. Il candelabro mi dava noia nella posizione in cui si trovava, e allungando la mano per non disturbare il mio domestico addormentato, nonostante mi fosse molto difficile, lo spostai, in modo che la luce ricalesse in pieno sul libro. L'operazione condusse a una scoperta assolutamente inattesa. I raggi delle numerose candele illuminarono una specie di nicchia, su cui fino allora una delle colonne del letto aveva gettato la sua ombra. Scorsi così in piena luce un dipinto, che non avevo ancora notato. Era il ritratto di una giovinetta nel fiore della sua femminilità. Data una rapida occhiata al dipinto, io chiusi gli occhi, perché non seppi spiegarmelo a tutta prima, ma nel mentre tenevo le palpebre chiuse, cercai dentro di me la ragione che me le aveva fatte chiudere. E trovai che era un movimento involontario per guadagnar tempo e pensare, per acquistare la certezza che la visione non mi aveva ingannato, e per calmarmi e prepararmi a una contemplazione più rigorosa e sicura. Trascorso qualche minuto tornai di fatto ad osservare il dipinto. Neanche a volerlo io avrei potuto adesso dubitare di veder giusto, poiché al primo riverbero della luce su quella tela lo stupore trassognato dei miei sensi si era dissipato ed era stato bruscamente richiamato alla realtà. Il ritratto, ripeto, raffigurava una giovinetta. Si trattava semplicemente della testa col busto ed era lavorato alla maniera vignettistica nello stile prediletto dal solli. Le braccia, il seno e persino la radiosa capigliatura sfumavano, fusi insieme, nell'ombra vaga ma intensa che serviva di fondo. La cornicia era ovale, riccamente dorata a filigrane, secondo il gusto moresco. Come opera d'arte era un dipinto davvero ammirevole, ma ad impressionarmi così vivamente ed improvviso non poteva essere stata l'esecuzione dell'opera né l'immortale bellezza della persona raffigurata. E meno che mai era possibile che la mia immaginazione, nello scuotersi dal suo dormiveglia, avesse preso la testa per quella di una persona vivente. Poiché le caratteristiche del disegno, il genere di esso, nonché della cornice, subito notate, dovevano avermi fulmineamente distolto da una simile allucinazione. Un'ora forse trascorsi sempre attentamente, riflettendo intorno a tutte queste cose, seduto in mezzo al letto e reclinato sul gomito senza mai distogliere gli occhi dal dipinto. Scoperto alla fine il vero segreto dell'effetto che esso faceva, mi lasciai cadere sul guanciale. Era la perfetta espressione di vita fermata su quel volto, che mi aveva dapprima fatto trasalire e poi confuso, soggiogato, atterrito. Compreso ad un profondo, rispettoso timore, tornai a mettere il candelabro nella sua posizione di prima. Venendo meno in tal modo dinnanzi ai miei occhi la causa della mia profonda agitazione, mi buttai avidamente sul volume che trattava dei quadri e delle loro singole storie. Al numero che designava il ritratto ovale, lessi le bizzarre e oscure parole di cui appresso. Era una fanciulla di rara bellezza e quanto amabile tanto giuliva. Maledetta fu l'ora in cui conobbe il pittore e si innamorò di lui e lo sposò. Lui, un uomo appassionato, studioso, austero, aveva già una sposa nella sua arte. Lei era una fanciulla di rara bellezza e quanto amabile tanto giuliva. Era fatta di luce e di sorriso ed era festosa come un piccolo cerbiatto. Tutto amava, tutto aveva caro. Non odiava che l'arte, la sua rivale. Non temeva che la tavolozza e i pennelli e gli altri arnesi del dipingere che la privavano della presenza del suo amato. Fu terribile quando sentì il pittore esprimere il desiderio di fare il ritratto anche a lei. Ma era umile e obbediente e per settimane e settimane docilmente sedette nell'alta camera tetra della torre dove la luce cadeva sulla pallida tela penetrando dal soffitto. Lui, il pittore, trovava gloria nel suo lavoro che di ora in ora progrediva sempre più ed era un uomo appassionato e strano, l'animo trasognato che si perdeva in fantasticherie. Tanto che non sapeva vedere come la luce che cadeva così lugubre dentro quella torre solitaria consumava la salute e le forze spirituali della sua sposa che tutti vedevano languire, tranne lui. Eppure essa sorrideva e continuava a sorridere senza mai lamentarsi siccome vedeva che il pittore, il quale aveva già grande fama, si infervorava con entusiasmo alla sua opera e lavorava giorno e notte per dipingere colei che lo amava tanto ma che ogni giorno più deperiva ed intristiva. E in verità chi contemplava quel ritratto parlava a bassa voce della sua rassomiglianza come di una possente meraviglia che provava, oltre la forza, l'amore profondo del pittore per colei che gli raffigurava in modo così prodigioso. Ma a lungo andare, come l'opera si avvicinava al suo adempimento, nessuno fu più ammesso nella torre, perché il pittore era tutto preso dalla foga del lavoro e non distoglieva che di rado gli occhi dalla tela, anche per osservare il viso della sua donna. E non vedeva come i colori che riversava sulla tela venivano tolti dalle gote di lei che gli sedeva dinanzi. E quando settimane e settimane furono passate e più non restava quasi nulla da fare, null'altro che dare un tocco di pennello alle labbra e uno agli occhi, lo spirito della giovane donna palpitò ancora come una fiamma al bocciolo della lampada. Allora il tocco fu dato alle labbra e agli occhi, e il pittore rimase per un attimo in estasi dinanzi all'opera che gli aveva compiuto. Ma continuando a contemplarla, subito tremò e si fece pallido e atterrito, scoppiando in un urlo. Ma questa è la vita che ho creato. Si volse a guardare la sua beneamata, la quale era morta.